Devo andare all'hangar, posso andare all'hangar? Scusa un attimo, vai indietro, vai sopra Perché non mi ricordo un cacchio Cioè mi ricordo sprazzi che ho fatto, devo modificare ancora il pezzo quindi non saprei Non saprei cosa succede lì Fammi giusto vedere se posso fare qualcosa Che devo viaggiare Allora, va un posto alla federazione Ah, aeroscalo fuoco, ecco lì devo andare Perché non me lo segna aeroscalo fuoco allora? Vabbè vado al fuoco Perché a che mi porta? Perché adesso che abbiamo il robo dei missili Forse l'unica cosa da fare È distruggere quell'altro pezzo di scudo O forse l'abbiamo già distrutto lo scudo Mi ricordo un cacchio Fammi vedere dove sono più che altro Oh, ma è nuovo È nuovo sto pezzo Se mi fa sta scena è nuovo, no? Aspetta, aspetta, aspetta Mi sa che devo fare un'altra cosa io No 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 Aeroscalo fuoco Vabbè, erano un'altra zona Ok, no va bene, va bene Ok, accetto Accetto Fammi giusto capire Che posto è allora? Non me lo ricordo mica Eh, lì gli arancioni ancora non possiamo farli L'abbiamo già esplorato questo La lavorazione gel me la ricordo Ah, ok Questa c'è la scorciatoia Mi ricordo tutto Va bene Dobbiamo semplicemente andare là Però se questa scorciatoia si aprisse Magari Please No È quella dove poi con Con il robo del ghiaccio L'abbiamo presa Ok Allora Possiamo andare direttamente Non c'è niente da vedere qua Perché appunto Quello non possiamo aprirlo Possiamo andare direttamente Là Se poi sta roba È bianca qua No, 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 no Che hiperfase Cosa? Raga non ho fatto niente Non ho fatto niente Vabbè Cioè entra in iperfase e muore Io lo so Che andando in iperfase per troppo tempo C'è scritto eh Guarda che poi subisci Lo so Ah ma loro Guarda che chiudono Chiudete il portale voi maledetti Ne vorrei ucciderne uno Si leva Ok Allora Vado anche in iperfase Per spregio Per sfregio No Dai fuori Fuori Ok Cosa cacchio bisogna fare? Perché Perché c'è sto posto? Io mica me lo ricordo Posso chiamare Ah Ah Questo non era prima da fare Non era da fare prima questo Ma è un pezzo nuovo Madonna Cioè loro hanno montato le torrette adesso Eh sì perché io qua potevo andare tranquillamente prima giù Pensate Pensa te Bagashi Questi si sono montati le torrette apposta Ok quello è un attacco missilistico Sti maledetti Vai giù Noi potevamo già andarci giù Solo che adesso hanno montato queste cose Ok ok E quindi questo vuol dire che qua Adesso succede qualcosa Levati Aiuto Vuol dire che adesso qua succede qualcosa no? Suppongo A parte sti schifi Questo è uno schifo Perché io qua vado avanti Anche se non vedevo la mappa dove era Perché non ce l'avevo dietro Posso avere un po' di vita? Grazie Oh Eccoci qua Ciao amico Ascolta Ok Dov'è l'altro? No Oh no C'è un altro? Siete più persone? No Fammi vedere se posso scansionare No Maldium Ok Io Maldium te lo tiro addosso Posso? Posso? Ok Se non ci sono torrette No Va bene Vai libero Torrette era solo un di là Forse è ben finito Ok Dissolto Noi dovevamo togliere lo scudo di quel robo lì Ok Distrutto il generatore E Cosa altro posso fare adesso? Niente Vado alla navicella Oh Ecco vedi Distruzione del generatore Disattivato lo scudo liviatano Ok E Il seme non ha più difese Ok E Andare sul posto Con la navetta E trovare un modo per distruggerlo Ok Mi dici te dove andare per favore Che non mi sono perso in giro Ah ok Vabbè Direttamente lì al seme Ma scusa Cos'è che sarebbe sta roba del seme di Brio? A Brio Brio Io continuo a pensare che sia quello di 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 Crash E Brio di Crash Ti fai i semi Mi viene in mente Sempre lui No 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 Calmi 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 ragazzi Calmi con le torrette Come si esce da qua? Da lì Dai fuori Non ho tempo per giocare con voi adesso Possiamo andare sul seme di Brio Dove solo capire dove stiamo andando Perché tipo Sapete il problema di fare Ste cose È che quando hai una trama da seguire Devi seguirla tutta È un po' come guardare un film E tipo interromperlo ogni Magari metti un film di un'ora E interromperlo ogni 20 minuti E riprenderlo dopo Due giorni Cioè magari guardi 20 minuti Lo interrompi Due giorni dopo lo riguardi 20 minuti Lo interrompi Perdi un po' il filo Cioè sarebbero da prendere E giocarle tutti di fila Il problema è che è impossibile Poi mettiamoci Cioè no anzi La mia situazione attualmente è Guardi 20 minuti di film Lo interrompi per due giorni In quei due giorni Guardi altri due film Per 20 minuti Cioè fai 20 minuti un film Poi 20 minuti 20 minuti Poi riprendi Un altro 20 minuti È un po' così Cioè sarebbe da prendere il gioco E giocare solo quello per Ti infogni In quel periodo E poi E poi basta Lo finisci Il problema è che te lo godi Te lo giochi quelle ore lì E basta Perché poi Te lo sei mangiato Allora Ok Mi sembra Mi sembra un posto abbastanza Abbastanza onesto Orca miseria Oh ciao ragazzi Ciao Schifo era? Non lo voglio sapere Non c'è un finta di niente Ok Vado di qua eh Non capisco Che schifo è sto posto Oh Occhio lì per fase Che già È finiti male Ok No Apri Ok Potrebbe essere un pelino grosso Come cosa Non lo so La butto lì Potrebbe essere un boss Qualcosa mi dice che è un boss Allora Ci sono quattro angoli Ma questo è Dalvos Forma Quando è Impossessato Dallo specchio Lì Come c'è che si chiama Suto late princess Cosa fa? Il giocoliere No Si è mangiato I quattro palloni Cosa sta facendo? Ok E mo? Mogenar Ok Mogenar Non saltare Mogenar Ecco Un dedurto Ovviamente Mogenar Antico golem Guerrero del reptilicus Maledetti Lizalfos Sfere sono la sua fonte D'energia Ok Allora le distruggo Ah Provo a distruggerle No Devo provare a distruggerle Dai cacchio Ah le ruota Ok Non glielo rotte Lo ho ceccato Che sto a fare Mogenar Dimmi Aia Sicuramente Devo distruggerle Oh Ok 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 Distruggendogliela Non è successo niente Ok Due No Mogenar Calmo Aia Dai tre Ok Mo? Mo? Mo che fa? Cosa fa Mogenar Piano 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 Che schifo Piano Piano Che sta facendo? Dove lo devo colpire? Non ha più le sfere Dimmi Sfera infranta Ha messo in evidenza Un nucleo Nalphazon Sovraccaricarlo Con l'energia Poi distruggerlo Oh va bene Ok mi piace come idea Aspetta un attimo Facciamo così Vai 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 giù di Iperfase Non ti preoccupare Credo 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 Che devo fare? Eh vabbè ormai sono contaminato Oh Dietro la schiena C'è altre sfere dietro la schiena Stai buono Stai buono Metti giù Voglio anche questa Non so se l'ho colpito Non credo Non gli ho fatto danni Dai Mogen Madonna Urca vacca Piano Aspetta ma ce l'ha anche nel culo Ah no è davanti Ok Oh Dai Non capisco cosa fa con queste sfere ai lati Se tipo recupera energia Ma non credo Ole Mo? Mi dice altro no Dov'è il nucleo? Ma porca vacca Ma dov'è il nucleo? Gli ho rotto in tutte le sfere Ah no Forse con queste qua si le recupera Aspetta Ok Cosa ha fatto? Non le recuperate Lo sta facendo sto uomo? No non l'ha recuperata Dov'è il nucleo? Dov'è il nucleo? Buoia? Oh dove? Dove l'ho preso? Nella sfera? Blast Toys Madonna Eltre che Blast Toys Aspetta 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 Cosa ha fatto? Cosa fa? Mi ha arrabbiato Mogenar I cristalli del faso Non alimentano una barriera protettiva Un'esplosione vicino ai piedi Potrebbero distruggere Sì ma miramelo Ascolta amico Quanto vicino ai piedi La vuoi questa esplosione? Eh Ah Un'esplosione vicino ai piedi Potrebbe distruggere Ascolta vuoi il fazon? Ma non posso Quanto vicino ai piedi Deve essere l'esplosione? Corre Raga Non so Non so neanche dove andare Eh ok Questo continua a girar Questo vuol dire Un'esplosione vicino ai piedi Un'esplosione vicino ai piedi Madonna Ah No 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 Sì Non capisco Li sto facendo qualcosa Raga Can you help me please? Se gliela tiro addosso Non va bene Non posso far niente Un'esplosione vicino ai piedi Non posso Ma che cacchio vuol dire Un'esplosione vicino ai piedi No Così li rimbalzano tutti Sto finendo i missili Scusa So che non avete giocato Però C'è tipo Magari Uno ha un'idea E dice Prova con questo Perché più che altro Adesso devo recuperare Un po' di vita Esplosivi Non posso chiamarla nave Vero E ti via Non posso chiamarla nave Non posso andare in iperfase So come battere Ma non so se dirgliela Porto un piccolo Se il genente mi piace Vedere lo soffrire Ci muoio Ci muoio Aspetta forse No basta Palla Ok Non posso andare più in iperfase No non basta Cacchio E' buono stai Sei buono Dammi vita Dammi vita Dammi vita Ho bisogno di vita Vai vai Recupera 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 Oh yes Let's go Ci siamo Dai apri Apri Schifoso Apri Noi Cosa fai Altra fase Va bene E' tornato come prima E' tornato come prima Adesso forse C'ho le palle più girate Aia Aia Forse se non li sto in mezzo alle palle Giustamente Ok E' bello All for you Ha fatto? Ha fatto Ha fatto Ha fatto Easy Easy Mogenar Vieni qua No 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 Ascolta un attimo Non ti ho detto di prendere queste Mogenar Dai metti giù Dammi la vita Vieni qua che ti ammazzo Ok Buoia Piano piano Mogenar Madonna Sta buttando giù tutto Cacchio sta facendo Ok 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 Ci siamo Aspetta 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 Con terminazione Fermo Ci siamo Sta arrivando Baby Ok Tutta vacca Pazzo E' pazzo E' pazzo Ah Che cacchio La macchina Ok Ok Telecomando Nuora Grazie Bisogno di vita Perfetto Allora Dov'è che Quale Iperfase Quale Quale cosa Questa Dai che c'ero No 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 Mogenar Fuck yes E' morto Ci siamo E' mo' di nuovo Game over Allora Quello è il robo Dentro di noi Giusto E' un qualcosa Dentro di noi Quindi molto lento Ogni volta che lo usiamo Comunque soffriamo Giustamente O almeno Se ne usi troppo Soffri E quello cresce Oh my god Arcovaleno ovviamente Come in tutti gli anime E si rimette la maschera Da posto Cioè In teoria Noi dobbiamo In teoria Noi dobbiamo Togliere I virus Dai Dalle unità Astrali Come si chiamano Le UA No Le UA UA Dobbiamo togliere Il virus da loro Perché sono state Contaminate Correggetemi Che non mi ricordo Più niente Potrei diritti Che sei forte Ma sei morto Una volta Quindi sei scarso Non è colpa mia Potenzimento Tutta Ipersfera Attiva Entra Ipersfera Primi C Per entrare In modalità Morfo Sfera E A Per usare L'Ipersfera Che è successo? Credo di non aver capito niente Dimmi che è una UA Quella Te ne prego C'è probabilmente Allora La morfosfera In modalità Iper Prima devi scagliere l'energia Faseone verso il nucleo Ah no Prima era Forse è il virus Quello Credo che Esplode per caso Anche Dimmi che esplode Con lui Con lei Che se ne va Power Ranger Ti prego No Inquadrala Dai Che si faceva Le esplosioni Dietro Con lei Che se ne andava Tipo così lentamente E dietro Aveva anche Il casco E' il Power Ranger Arancione Power Ranger Metallico